Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Near the Engineer, oggi siamo su Chatroulette dico due parole velocissime, speriamo di beccare pochi smanettoni e tanta fregna detto questo, sigla! Ma vestiti! Indonesia, oddio! E te? Hai, madonna, Sweden, 18, hai, hai, una fregnazza, Jessica, hai, madonna, Ma basta! No, io, sta gente che si vuole fare le seghe Questo non sei, non sei di Singapore, te Non sei di Singapore E te chi sei? Sei il folletto irlandese Argentina Questo che sta a fa? Sta a disegnare? Sta a disegnare un cazzo? What the fuck? Yeah, man Near, Near the Engineer Wow Yes Ma che cazzo Picasso Do you know Picasso? Maddo Oh You What the fuck, man I'm Picasso No, no, man You are Picasso Italy Ciao, man E' fatta l'analisata, Gianluca Gundo Gun Gundo Gun Do you know Borussia Dortmund Footballer? Footballer Ciao, man Thumbs up, man Thumbs up Thumbs up Fammi un thumbs up, cazzo Gianluca Thumbs up Yo, grande man Germany Romania, portami via Ma non c'aveva 17 anni Ma che stai a fa, Gianluca Iron Man What the fuck? Man Spaccato duro Bottiglia Famiglia Englishman Ah Questo sta a studià Oddio Gundo Gun Lui è Gundo Gun Gundo Gun Do you know Borussia Galatasaray Ma vaffanculo Mamma mia Gente che se sta a spugnetà K Robbe di cacca Italy Yo, man Thumbs up Thumbs up Stai a studià Stai a studià Ma vaffanculo Ma vaffanculo Oddio Oddio Kebab 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 Do you know kebab? Lo fai il kebab? Lo fai il kebab? Madre Ma che ti scoppiasse una bomba in faccia Russian Nooo Palestina in the house Age 15 A bro In forma Ma che schifo del cazzo Che fate Ma che schifo Ma guarda come cazzo sei messo Con questo Affanculo United States Questo sta a suonaggio a Luga Ma che panza che hai Oh Ma magna di meno Or McDonald Mamma mia Ma poi voglio dire Ma tieni sto cazzo di audio Che non si sente niente Trippone Oh mio dio Che stai a fa? Stai a studiare? Eh bro? Ma cazzo una fregnaccia No eh Madonna Mail Oh ma accendila una luce In casa tua eh Che stai a fa? Sta a fa? Stai a fare la maia? Stai a far su le porre? Che stai a fa? Gianluca Ma vaffanculo Oh Oh Hi Hi How are you? Mazza che Mazza che bestia che sei Great Ha 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 Fatte vedere dai E schippa E schippa Taiwan Taiwan Terra del riso Taiwan Solo bocce per lei No Mail No Non ci piacciono i mail Liso Una polzione di liso Con gambeli Lavioli al vapore E Un involtino Plimavela No Dranken Ha Te lo dico Guarda che faccia che c'hai Vecchio Secondo me sei anche Reddittivo Con te non sei in Germania Sei un maschio o una femmina? Lithuania No Russian Russian Federation Age 16 Non è vero Yo man thumbs up Thumbs up man Thumbs up Thumbs up man Thumbs up Come on man Thumbs up Thumbs up Thumbs up Yeah Yes Grande Affanculo Vate la Russia Vite la Russia